Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Oggi è mercoledì ma non c'è stata udienza generale perché tradizionalmente in questa settimana della Quaresima il Papa e la Curia Romana vivono l'esperienza degli esercizi spirituali. Quest'anno però, causa Covid, non è stato possibile farli in maniera comunitaria ma il Papa e i suoi collaboratori hanno scelto comunque di fermarsi in silenzio e in preghiera. E sulla necessità di fermarsi per tutti, non solo per il Papa e per la Curia ma per ciascuno di noi, vogliamo proprio riflettere nella puntata di oggi insieme all'abbate generale dell'Ordine Cisterstenze, padre Mauro Giuseppe Lepori. Benvenuto. Grazie. E insieme a Maria Vittoria Lanzara, presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Salerno, Campagna, Cerno. Ciao Maria Vittoria. Buonasera, grazie. E allora, bisogna fermarsi, serve fermarsi. Questo il Papa l'ha detto già ancora lo scorso settembre in occasione dell'incontro con le comunità della Laudato Si. Sentiamo le parole di Francesco. Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare. Per non distarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio. Perché il cuore non diventi infermo. Serve fermarsi. Non è facile. Bisogna, ad esempio, liberarsi dalla prigionia del cellulare per guardare negli occhi che abbiamo accanto e il creato che ci è stato donato. Contemplare è regalarsi tempo per fare silenzio, per pregare, così che nell'anima ritorni l'armonia, l'equilibrio sano tra testa, cuore e mani, tra pensiero, sentimento e azione. La contemplazione è l'antidoto alle scelte frettolosse, superficiali e inconcludenti. Chi contempla impara a sentire il terreno che lo sostiene. capisce di non essere al mondo solo e senza senso. Scopre la tenerezza dello sguardo di Dio e comprende di essere prezioso. Il Papa è molto netto. Dice, occorre fermarsi perché il cuore non diventi infermo. Ma che significa fermarsi? Il Papa situa bene il fermarsi in un contesto di fretta, di un essere travolti dal tempo, dalle circostanze, dalle cose da fare, dai contatti, eccetera, per cui uno perde il senso, come lui ha ripetuto, che è un senso, qualcosa che ti è dato e che se non ti fermi non lo accogli. È bello il suo accenno al fatto che ci si ferma sotto lo sguardo tenero del padre, in un certo senso ha detto questo, un po' come, penso a San Benedetto, lui ha iniziato tutta la sua traiettoria monastica fermandosi tre anni a Subiaco e San Gregorio dice proprio sotto gli occhi di Dio, proprio come per... Il tutto subito non è un fermarsi, no? Quello a cui siamo... Invece il vero fermarsi è teso, è un'apertura, un essere, come dire, aprirsi a qualcosa di più grande per cui siamo fatti, per cui il cuore è fatto, per cui la nostra libertà è fatta, no? Fermarsi vuol dire proprio scegliere di stare, no? Di aderire a un presente che è teso verso l'infinito, verso l'eterno. Quindi non è stare fermo, non è oziare fermarsi. Ma è più una questione di coscienza, no? Proprio quella... Può essere il fermarsi anche un attimo, no? Io penso... C'è questa... La spiritualità della preghiera del cuore, no? Quindi la preghiera continua. Proprio che in ogni istante io mi posso fermare per accogliere l'eterno, perché il mio istante presente riconosca che è nell'eterno, che è nelle mani, è sotto lo sguardo dell'eterno e così ne scopro il senso, no? Di ogni istante che passa, no? Diventa una strada, no? Tu sei aiutato dalla tua regola in questo? Ma in fondo la regola è fatta per questo, no? Il monaco è proprio... chiamato a... Ma il San Benedetto ha una tecnica, cioè ci interrompe, no? Lui spezza sovente le ore dell'attività giornaliera più che le ore della notte, no? Proprio per ricordarci a ogni ufficio, ad ogni momento che insistentemente ci arresta che siamo chiamati a scegliere di fermarci, no? Se vogliamo aderire a questo tesoro che ha offerto la nostra libertà. Questo sguardo di Dio è dato a tutti, ma è offerto, no? Dio ce lo propone, no? E quindi il fermarsi è come dire sì, io sto davanti a te, no? E questo dà senso a tutta la parabola del tempo, della vita, degli impegni. Maria Vittoria, tu sei una professionista, madre di due figli. Trovi il tempo di fermarti? Riesci a fermarti nella velocità della vita quotidiana? Riesco a fermarmi quando un po' decido di fermarmi, perché la velocità, come tu dicevi, della vita quotidiana è tale per cui bisogna sempre correre, se non fisicamente, almeno in questo periodo, ma c'è sempre un impegno, c'è sempre una scadenza, quindi c'è sempre una accelerazione, se non del corpo, almeno della mente. E per quanto mi riguarda, la cosa invece più difficile, ma necessaria, appunto è decidere di fermarsi per proprio interrompere questa corsa che distrae e che non consente quello stare, no? Al quale adesso anche la Bate faceva riferimento, quel poter sostare, saper stare nelle situazioni nelle situazioni avendo ben fermi i piedi per terra, essendosi ben radicati e quindi il fermarsi, per quanto mi riguarda, avere consapevolezza di quello che sto provando, di quello che sto facendo, e quindi essere in contatto profondo con la propria coscienza e quindi anche con la voce di Dio. Per far questo hai bisogno di staccarti dalle attività, come diceva la Bate, o somiglia più alla preghiera continua, cioè quindi a un essere collegata con tutte le cose che stai facendo? Beh, in realtà tutto questo nell'ultimo anno è molto cambiato, perché io prima avevo un tempo, che erano soprattutto quelli delle 15, no? Le 3 del pomeriggio, in cui riuscivo proprio a dedicarmi un tempo per poter staccarmi. Insomma, evidente, per ovvi motivi, questo nell'ultimo anno non è possibile, perché la casa, tra l'altro, è sempre piena, no? C'è il marito di smart working, i figli che sono sempre in casa e va bene così e quindi dopo un primo momento di smarrimento ho potuto però proprio sperimentare ancora di più la possibilità di staccare dentro. Ecco, anche se tutto intorno è molto in movimento, c'è confusione, c'è chiasso, però creare la situazione di silenzio è possibile farlo almeno per quanto mi riguarda anche nella circostanza attuale. Certo, c'è bisogno di allenamento. Se non avessi avuto tanta esperienza del passato, anche tante cose fatte che ai tempi non magari capivo, oggi probabilmente non riuscirei a fare questo stacco almeno mentale. e non abbiate paura del silenzio è proprio un appello che Papa Francesco ha fatto. La cosa interessante è che l'ha fatto in questa circostanza che stiamo per ascoltare a degli studenti. Ascoltiamo. Non abbiate paura del silenzio di stare soli ma non sempre no, no perché questo non fa bene ma anche prendersi un po' di tempo solo di ritagliarsi spassi del silenzio non abbiate paura del silenzio di scrivere un vostro diario per esempio nel silenzio non abbiate paura dei disagi e delle aridità che il silenzio può comportare. Annoia il silenzio annoia all'inizio può darsi ma poi passo passo che tu vai entrando in te stesso nel silenzio non annoia più. In interiore omine habitat veritas nell'interiore della persona abita la verità cercarla vale per tutti per chi crede e per chi non crede l'interiorità dove ne abbiamo solo nel silenzio interiore si può cogliere la voce della coscienza e distinguerla dalle voci dell'egoismo e dell'edonismo sono voci diverse. Dopo è scontato che il monastero sia un luogo silenzioso o no? Sì a volte ha anche i suoi momenti a volte no ma insomma in linea di massima lo è è un luogo noioso? Devo dire che la grande scoperta che ho fatto agli inizi della mia vita monastica è che non era mai noioso cioè che ogni giorno era una novità ma proprio grazie a questa alla novità della parola di Dio in fondo che ogni giorno quel silenzio quella monotonia ascoltava una parola nuova cioè proprio la grande scoperta la grande che io proprio l'ho sempre sentita come la scoperta di una sorgente nella vita monastica fin dal noviziato fin dagli inizi proprio come una parola di Dio è proprio qualcuno che ti parla il fatto che la dice a te e che crea un rapporto con te perché te la dice ti invita a un cammino e quindi ogni giorno io non ho mai avuto un giorno uguale all'altro in monastero tutti uguali esteriormente ma a questo livello no proprio a livello dell'ascolto quindi però tu parli di silenzio ma anche di ascolto sembra un un paradosso perché il silenzio non è il mutismo assoluto che cosa tace e che cosa parla nel silenzio io per conto mio il silenzio che non ascolta non esiste perché se non si ascolta se non si ascolta Dio o se non si ascolta la coscienza che è come questa voce di Dio che è in fondo ad ogni cuore no perché siamo creati ad immagine di un Dio che è Trinità che dialoga no che è ad immagine del verbo di Dio se uno non ascolta quello ascolta altre voci ascolta se stesso detto il Papa questo edonismo questo egoismo che è proprio un ascoltare se stesso ascoltare la critica verso l'altro eccetera invece per cui il silenzio esiste se ascolta se è teso ad ascoltare un altro e come si distinguono la voce della coscienza da invece quelle altre voci di cui fa riferimento il Papa quelle dell'egoismo io direi che è proprio la cioè il cuore ascoltando la voce di un altro la voce di Dio si sente compiuto no prova una una letizia una pace sente che questa parola gli corrisponde come cuore come desiderio sente come che beve una sorgente no proprio e questa è un'esperienza non è una cosa che si può spiegare perché o per come invece quando uno ascolta solo se stesso la propria critica il cuore è inquieto cioè è mal inquieto no perché c'è un'inquietudine che è buona no se è quella che cerca Dio invece c'è un'inquietudine che è proprio una una mancanza di è come un conflitto no come un conflitto continuo conflitto con la realtà con le con quel che accade il vero silenzio è una pace è proprio una San Benedetto quando parla del silenzio lo definisce taciturnitas che è come si potrebbe tradurre io taccio per lasciar parlare l'altro e quindi è proprio c'è l'idea di ascolto è fondamentale Maria Vittoria come tu prima parlavi dell'esperienza del rumore che può essere anche una casa abitata da da due ragazzi come come si fa silenzio nel nel rumore come si mantiene come abbiamo sentito dire prima da Papa Francesco come si cerca di avere uno sguardo contemplativo anche per esempio sui figli e non soltanto diciamo organizzativo funzionale sulle cose che devono essere fatte che però poi dopo magari ci danno più agitazione che quella pace del cuore a cui faceva riferimento padre Mauro sì in realtà credo che prima di tutto bisogna almeno la mia esperienza dice questo distinguere da un silenzio cercato quando viene anche richiesto ai figli quando io dico per piacere fate silenzio lì è sostanzialmente quasi un volersi distaccare dalla loro contemplazione quello è un silenzio per prendere quasi le distanze da qualcosa che invece loro ti richiamano a fare nella casa delle volte viene proprio un po' viene accade tutto il contrario cioè il rumore dei figli il loro irrompere adesso stiamo lavorando tutti i smart working per cui delle volte accade che mentre tu stai facendo qualcosa di importante si apre una porta quindi quel loro irrompere che apparentemente è un rumore e per certi versi lo è però richiama a una responsabilità e quindi poter poi stare in quella loro richiesta ti apre allo sguardo contemplativo e quindi poter entrare nei loro tempi nelle loro richieste interrompe quel flusso di pensieri di organizzazione che io come adulto posso avere e quindi da questo punto di vista i figli con le loro irruenze con il loro rumore sono un richiamo a costruire il vero silenzio quello della contemplazione mi pare che tu e padre Mauro stai dicendo una cosa in comune molto chiara confermatemi se ho capito bene che il vero silenzio è sempre l'ascolto di un tu siete d'accordo tutti e due allora se siete d'accordo andiamo avanti facciamo un altro un altro passo perché il papa siamo partiti dal papa che ci diceva che bisogna fermarsi per ascoltare la coscienza ascoltare il signore ma il papa dice anche un'altra cosa che sembra quasi il contrario che il signore lo si ascolta camminando che è un po' il contrario di fermarsi sentiamo questo passaggio e cercheremo di capire qualcosina in più io domanderei come si ascolta il signore come si ascolta dove parla il signore voi avete il numero il telefonino del signore per chiamarlo come si ascolta il signore vi direi questo e questo sul serio il signore non si ascolta stando in poltrona capite io seduto la vita comoda senza far nulla vorrei ascoltare il signore mi avete sicuro che ascolterei qualsiasi cosa meno il signore il signore con la vita comoda in poltrona non lo si ascolta rimanere seduti nella vita ascoltate questo è molto importante per la vostra vita di giovani rimanere seduti crea interferenza con la parola di Dio che è dinamica la parola di Dio non è statica e se tu stai statico non puoi sentirla Dio si scopre camminando si scopre camminando se tu non sei in cammino per fare qualcosa per lavorare per gli altri per portare una vita davvero di testimonianza di fare il bene mai ascoltare il signore per ascoltare il signore ci vuole essere in cammino non aspettando che nella vita accada magicamente qualche cosa allora ci dobbiamo fermare o camminare per ascoltare il signore ma l'ascolto è un cammino è un pellegrinaggio io direi che la perché è la nel col signore si trova il senso della vita no e il senso della vita è un itinerario che è un andare verso Dio con Lui un seguire Gesù Cristo per cui non è il verbo per noi è Gesù in cammino che ci dice seguimi questo per tutto per tutte le vocazioni proprio e per questo ascoltarlo vuol dire aderire a Lui che cammina davanti a noi per cui non si ascolta Gesù dicendogli fermati a Lui ce lo dice Lui ma Lui ci dice stai con me ma Lui cammina cioè questo è proprio anche quello che dà unità alla nostra vita io per esempio da quando sono a Batte Generale sono molto poco fermo no a parte questo anno di Covid ma però non ho sentito nessun tradimento alla mia vocazione monastica perché Gesù mi diceva adesso seguimi così e non sarei rimasto l'ascolto di Lui se non l'avessi seguito anche in questo cammino e questo fa che poi come dire l'importante è che tutta la vita sia un pellegrinaggio con Lui gli esercizi sono un pellegrinaggio anche i giorni di esercizio sono come una concentrazione del cammino di tutta la vita come non so la quaresima è una concentrazione del cammino di tutta la vita cristiana ecco come fare un esercizio ma che per camminare un esercizio non lo si fa per star seduti e il tema resta quello Maria Vittoria di cercare poi i segni le tracce per restare le orme per restare nella metafora del cammino del Signore nella vita di tutti i giorni è difficile nella vita di tutti i giorni trovare i segni di Dio sì è difficile nella maniera in cui prevale il rumore la confusione e lì quando c'è confusione non riesci proprio a vedere quei segni anche perché poi nella confusione alla fine apparentemente si cammina ma poi si sta fermi al massimo si gira si gira un po' su se stessi si gira in tondo e credo che per quanto mi riguarda proprio la cosa più difficile è andare a trovare i segni proprio nel quotidiano nella fedelità nella nella routine è più facile trovare i segni nei momenti eccezionali della vita quelli quando magari si sente anche la presenza del Signore in maniera più forte in cui il dialogo è anche più facilitato ma proprio tutti i giorni tutti i giorni quando magari aumenta troppo il rumore la confusione andare lì a ricercare dei segni è possibile è la cosa più complicata grazie davvero Mere Vittoria grazie Padre Mauro è arrivato il momento di salutarci vi ricordo che stasera c'è l'appuntamento con il rosario alle 21 sarà pregato nella chiesa del seminario diocesano della diocesi di Concordia Pordenone e presieduto dal vescovo Giuseppe Pellegrini noi ci rivediamo domani alle 17 e 30 con il Dior di Papa Francesco e stasera alle 19 e 30 con le parole della fede la domanda di oggi è cosa sono le tentazioni vi aspetto buona serata non avere paura al deserto cercare momenti di più preghiera di silenzio di entrare dentro di noi non avere paura siamo chiamati a camminare sui sentieri di Dio rinnovando le promesse del nostro battesimo e di